No, si sposta, va di là, va di là, va di là, va beh, ma ricomincia, si, vai riparo, ciao a tutti, adesso vi faccio vedere il pannolone, vieni, vieni, facciamo vedere, spostiamo di però, apri un po' il pantalone, apri, apri un po' il pantalone, questo sta facendo un po' la pipì, adesso beviamo un pochino, a non poi dire che bevo un pochino, ok, vi saluto, ciao ciao